Parliamo di libri, lo facciamo con un'amica di Padre Pio TV, lei è una docente, animatrice culturale, blogger letteraria o book blogger come dicono quelli che sanno parlare ben l'inglese. Carla Bonfitto, benvenuta, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, mi piacerebbe chiederti in quale di queste definizioni ti senti un po' più a tuo agio? Ma io sono semplicemente Carla ma con una passione per il mondo della lettura che ho condiviso piacevolmente con voi durante quest'anno parlando di libri e di tante belle storie. Allora, a proposito della tua passione per i libri, edizione numero 6 della rassegna letteraria Pagine d'Autore, e pagina d'Autore è anche la tua pagina Facebook in cui appunto condividi con chi ti segue i tuoi consigli di lettura. Si parte l'8 luglio con una serie di autori e libri imperdibili potremmo dire, Carla. Assolutamente imperdibili, sì, potete avere anche le informazioni sul blog o su Instagram o sui canali social. All'8 luglio si parte con Ilaria Gaspari, io ce l'ho qui vicino a me, La Reputazione è un bellissimo libro, edito da Guanda Editore. Poi abbiamo il 9 luglio Dario Levantino, che ritorna, sono tanto contenta con questo suo nuovo libro, Il giudice e il bambino, di Fazio Editore, e poi l'11 Il delitto della montagna, con il 10 Il delitto della montagna con Chicca Maralfa, e per finire il 12 luglio abbiamo Massimiliano Virgilio con un giallo molto bello, Luci sulla città e la figura di Matilde Serau, edito da Feltrinelli. Insomma, si può spaziare un po' ovunque. Un incontro, una rassegna letteraria che si terrà in un luogo molto significativo, che è il chiostro del convento di San Matteo, a San Marco e Lamis. Carla, una domanda, come dire, di tipo tecnico. In base a che cosa scegli i libri e gli autori che poi parteciperanno alla rassegna? Leggendo molto, non so se sono loro che cercano me o sono io, perché poi alla fine è come se si chiudesse un cerchio che è bellissimo, che è quello appunto della lettura. Mi piace leggere, mi piace confrontarmi, devo provare delle sensazioni, non solo per il libro, ma anche per lo scrittore, la scrittrice, la persona, e poi questo confronto diretto che avviene durante la presentazione. Diciamo che fino adesso è andata sempre bene, nel senso che questi libri hanno anche un filo, diciamo, conduttore, non voluto, cioè non volendo, alla fine, come dicevo prima, si chiude un cerchio perfetto tra le bellissime pagine dei libri scelti. Quindi non c'è un tema che li unisce tutti, non scegli un tema per ogni edizione della rassegna letteraria. Sono appunto... Ci provo, ci provo. Dico, vabbè, quest'anno partiamo con un tema, però poi alla fine sarebbe troppo riduttivo. Però l'anno scorso, ad esempio, c'era il tema dell'amore che emergeva maggiormente nei libri. Quest'anno la mia riflessione finale, dopo aver letto tutti i libri, è stata quella della ricerca, se vogliamo. Una ricerca interiore, il discorso dell'identità, della maldicenza, perché ad esempio nel libro, il primo appuntamento con la scrittrice filosofa Ilaria Gaspari, si parlerà appunto di questo, ma se vogliamo anche negli altri libri, negli altri incontri. Sono quei nodi che magari dobbiamo sciogliere, che ci tengono troppo legati qui sulla terra. E di questo si parlerà, ad esempio, con Dario Levantino, che ritorna con la tematica della legalità, e questa volta sulla figura di Paolo Borsellino, e del piccolo Giuseppe Di Matteo, che è stato sciolto nell'acido. Quindi la legalità, la ricerca, anche in questo caso. La stessa cosa anche per il libro di Chica Maralfa, Il delitto della montagna, perché si parla di un luogo tenente barese, ambientato nei luoghi della Grande Guerra. E anche lì c'è qualcosa di risolto. Qualcosa di risolto c'è anche nella bella Napoli, che ci racconta Massimiliano Virgilio, attraverso la figura di una grande scrittrice, fondatrice del primo giornale donna da scoprire. Finalmente si parla di Matilde Serrao, grazie a questo grande scrittore e giornalista che io ho tanto piacere di ospitare, di parlare di questo suo nuovo romanzo. Allora, ricordiamo l'appuntamento. Si parte l'8 luglio alle 20, chiostro del convento di San Matteo a San Marco in Lamis, e poi il 9, il 10 e il 12 luglio. L'ingresso è lì, però ecco, stiamo vedendo anche il manifesto di questa sesta edizione di Pagine d'Autore. Ricordiamo, Pagine d'Autore è anche una pagina sia Facebook e Instagram per seguire Carla Bonfitto, docente blogger letteraria. In conclusione, una battuta. Come insegnante hai dato ai tuoi studenti dei libri da leggere per quest'estate? Assolutamente, non sfuggono. Sono a loro stessa, me lo ricordano. Mi ero quasi dimenticata, mi hanno detto, prof, quest'anno non leggiamo niente, e quindi insomma sono ripartita alla carica. Sì, libri classici, parto molto dai classici durante l'estate, perché la formazione della letteratura classica è importante. Ma poi saranno con me i giovani lettori del blog Pagine d'Autore dell'Istituto Giannone, quindi ci saranno anche loro a intervistare, a fare accoglienza agli autori e al pubblico, a quanti vorranno condividere con noi queste belle serate. Sicuramente un appuntamento da non perdere, speriamo di vederci almeno in una delle quattro serate. Cara Carla, ti ringraziamo di cuore per essere stata con noi, e allora buona lettura, buone pagine d'Autore a tutti i nostri amici, e naturalmente a te Carla Bonfitto. Buona giornata. E un caro saluto a tutto lo staff di Padre Pio TV a Just Today, che mi ha ospitato. Ciao cara, grazie anche per quello che hai fatto in quest'anno televisivo. Allora, sono le 9 e 13, vediamo se c'è qualche foto che possiamo condividere con i nostri amici telespettatori, foto che sono giunte al 331 737 8033. Eccoli qua, i saluti che ci arrivano da Paola, saluti da Latina, ma siamo noi che dobbiamo salutare Paola perché oggi è il suo sessantesimo compleanno. Quindi grazie cara Paola per aver voluto condividere con noi questa importante ricorrenza. E poi Maria Pia ci invia la foto di Capitello in service Pomarolo. Probabilmente appunto è una località, però non abbiamo altre indicazioni, quindi non abbiamo né la provincia, né la regione di provenienza. Ma va bene così. Grazie ai nostri amici, continuate a condividere con noi le vostre foto, i vostri scatti. Allora, non so se dobbiamo andare da Nicola che ha qualche aggiornamento, credo di sì. Allora, andiamo subito da Nicola e poi andiamo in pubblicità. Sì, c'è tanto da dire su un tema che ricorre, soprattutto in questo periodo. Parliamo dei saldi. Si susseguono anche attraverso le agenzie di stampa dei commenti, dei consigli. Accenno soltanto ad un aspetto di questo tema così vasto. I saldi sono un'occasione di acquisto sempre meno allettante per i consumatori, grazie all'abbondanza di offerte online sempre più frequenti. A comprare durante i saldi ormai sono soprattutto gli anziani che non sanno usare internet o non si fidano dall'anno scorso. Infatti è in vigore l'articolo 17 bis del Codice del Consumo. I commercianti hanno l'obbligo di indicare il prezzo più basso applicato nei precedenti 30 giorni al prodotto in sconto. Invitiamo tutti a verificare che il negoziante abbia indicato questo prezzo su tutti i cartellini. Così il presidente regionale di Feder Consumatore Sicilia parlando dell'inizio appunto dei saldi oggi nella regione. Ma ci sono anche, come vi dicevo, ulteriori commenti e previsioni su quelle che possono essere le spese pro capite. Confese esercenti parla di circa una media di 100 euro a persona. Ma per il momento è tutto. A dopo. Grazie Nicola. Più tardi andiamo in pubblicità di nuovo in linea alla regia e poi torneremo a collegarci con Trieste.